Siamo qui, siamo arrivati, abbiamo dormito sul camion noi, non è che abbiamo molto da dire, abbiamo più da fare, abbiamo più da firmare, poi per me non è una cosa semplice, quindi noi siamo qui per dire anche noi, ma andare a fanculo le persone che se lo meritano. Grazie, buona continuazione, le raccomando firmate. Bravi!